Buon margine, ce l'ha fatta, fantastico, fantastico signori, una crono, Andrea Rigoni, bravo, 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 ma gli è poco, bravo, fantastico, bravo Andrea, signore e signori, Andrea Rigoni, tira una freccia. Bravo Andrea, grande, grande Andrea, fantastico, secondo posto, ma dove, che è il secondo? 229, cosa non ha fatto questo ragazzo, Andrea Rigoni ragazzi, una crono fantastica, praticamente che sono 50 km di cronometro. Beh 50 no, però 48, ecco ancora, ancora una volata, è lanciata, ancora una volata, bravissimi, bravi, bravi, complimenti a tutti, questo è arrivato tutti i primi perché è stata dura, bravi, 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 anche uno molto bravi, signori. Andrea Rigoni Grazie 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 a tutti